che cosa fai con il mais? prova a indovinare i popcorn certo, eccoli qua li conserverò nel mio magazzino non vuoi una carriola? no, e per farci cosa? posso trasportarli perfettamente da sola ma non puoi trasportarli entrambi in una volta e va bene, allora farò due viaggi, ecco qua oh, mi sono dimenticato il dolce e dove lo troverai? le mie antenne dicono da quella parte sembra abbastanza pesante non per me, posso trasportare 40 volte il mio peso ne sei proprio sicura? uno, due, tre sto bene, ancora un pezzetto forse è meglio tagliarla e come farai? con la mandibola, guarda adesso dovrai fare molti viaggi è vero, ma le mie compagne possono aiutarmi wow aspetta, aspetta, aspetta sei un animale con sei zampe le antenne, le mandibole e sei tutta nera lo so chi sei sei la formica esatto ma come hai fatto a indovinare? ah 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 grazie a tutti Grazie a tutti.